Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo svolgere il seguente esercizio. In un parallelogramma ABCD, il lato AB è il doppio del lato BC. Prolunga BC, dalla parte di C, di un segmento CE congruente a BC. Dimostra che AE è la bisettrice di BAD e che, comunque scelto un punto P su AB, il segmento PE resta dimezzato dal suo punto di intersezione con CD. Per chiarire le idee guardiamo la seguente figura. Abbiamo un parallelogramma ABCD, in cui il lato AB è il doppio del lato BC. Abbiamo prolungato dalla parte di C il segmento BC, di un segmento CE che per ipotesi è congruente a BC, quindi risulta BC congruente a CE. Vogliamo dimostrare che AE è la bisettrice dell'angolo BAD e che, comunque scelto un punto P sul lato AB, risulti PN congruente ad NE, dove N è il punto di intersezione tra PE e CD. Riassumiamo adesso brevemente l'ipotesi e la tesi. Le ipotesi sono che ABCD è un parallelogramma, che AB è due volte BC e che CE è congruente a BC. C è congruente a BC. Vogliamo dimostrare che l'angolo BAE, quindi quello indicato in verde, è congruente all'angolo EAD, indicato in viola, e che PN è congruente a NE. Ingrandiamo quindi la figura e cominciamo a dimostrare che l'angolo BAE è congruente all'angolo EAD, quindi dimostriamo che AE è la bisettrice dell'angolo BAD. Cominciamo ad osservare che, per ipotesi, AB è congruente a due volte BC, ma BC è congruente a CE, quindi BC più CE è congruente ad AB. Quindi, visto che AB e BE sono congruenti, il triangolo ABE è isoscele sulla base AE. Per questa ragione l'angolo BAE, indicato in verde, è congruente all'angolo BAE, indicato in viola. Infatti, gli angoli alla base di un triangolo esoscele sono tra di loro congruenti. Ma è facile osservare che l'angolo BAE, indicato in viola, è congruente pure all'angolo EAD, anche indicato in viola. Infatti, quest'angolo e quest'angolo sono angoli alterni interni generati dalle rette parallele BE e AD, tagliate dalla trasversale AE. Per far sì che il discorso sia più chiaro, guardiamo quest'altra figura. Abbiamo due segmenti paralleli tagliati da una trasversale. Gli angoli indicati in viola sono angoli alterni interni, quindi congruenti, esattamente come nel caso del nostro problema. Abbiamo quindi dimostrato che l'angolo BAE è congruente sia all'angolo BAE sia all'angolo EAD. Quindi, sfruttando le proprietà della congruenza, risulta l'angolo BAE, indicato in verde, congruente all'angolo EAD, indicato in viola. Per questa ragione, AE divide in due angoli congruenti l'angolo BAD e quindi AE è la bisettrice dell'angolo BAD. Volendo quindi ricapitolare questa prima parte della dimostrazione, abbiamo osservato che per ipotesi BC è congruente a CE. Quindi AB, che è il doppio di BC per ipotesi, è congruente a BE. Quindi AB congruente a BE. Per questa ragione, è congruente all'angolo BEA, visto che questi due angoli sono angoli alla base di un triangolo isoscele. Adesso abbiamo osservato che l'angolo BEA è congruente anche all'angolo EAD. Infatti questi angoli sono alterni interni delle rette BE e AD tagliate dalla trasversale AE. Quindi B è congruente a EAD. Quindi B e A è congruente sia a EAD, sia a EAB. Quindi abbiamo dimostrato che l'angolo BEA è congruente all'angolo EAD. Quindi AE è la bisettrice dell'angolo BAD, che è la prima parte della nostra tesi. È facile osservare che, al di là di tutte le considerazioni grafiche, se BAE è congruente a BEA e BEA è congruente a EAD, allora sfruttando le proprietà della congruenza si ha che BAE è congruente a EAD. Passiamo adesso a dimostrare che, comunque scelto un punto P su AB, il segmento PE resta dimezzato dal suo punto di intersezione con CD, quindi risulta PN congruente ad NE. Ingrandiamo nuovamente la figura e osserviamo che siamo nelle ipotesi di applicazione del piccolo teorema di Talete, il quale afferma che, dato un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali, a segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra trasversale. Nel nostro caso abbiamo i segmenti di CEAB tra loro paralleli e le trasversali BE e PE. Sappiamo che a segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra trasversale. Visto che BC è per ipotesi congruente a CE, allora anche PN è congruente ad NE, ma questo è proprio ciò che volevamo dimostrare. Quindi, potendosi applicare il piccolo teorema di Talete, secondo cui, dato un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali, a segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra trasversale. Ed essendo BC congruente a CE, allora anche PN è congruente ad NE, visto che DC AB e AB sono paralleli e BE e PE sono due trasversali. Possiamo scrivere che, visto che AB è parallelo a DC e BC è congruente a CE, allora si ha che PN è congruente a NE, che è proprio la seconda parte della nostra tesi. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita. Grazie.